Al Parlamento italiano, oggi come oggi, dovessimo prendere un provvedimento davvero nell'interesse di tutti gli italiani, quindi nell'interesse della giustizia, in materia di corruzione, farsi in bilancio, trasparenza, di tutte queste belle cose che abbiamo detto stasera, non lo possiamo mai prendere perché non sappiamo mai se quella decisione viene presa in interesse di tutti o di alcuni. Ci sono 150 parlamentari che sono avvocati e 170 che sono imputati. Con un parterre di questo genere, voi mi dovete dire, ma voi pensate davvero che quelli sono talmente masochisti da fare una legge che stabiliscono il conflitto di interessi, che stabiliscono la incandidabilità delle persone condannate, che stabiliscono la incompatibilità tra un ruolo e l'altro? Il primo problema da risolvere allora è come si seleziona la classe dirigente.